Terzo giorno di ritiro ai Campi Kennedy per il Giuliano Calcio. Ancora tanti under in squadra con Mr. Amorosetti per preparare la nuova stagione e soprattutto i nuovi acquisti. In serate è arrivato anche un altro colpo, davvero molto importante, perché parliamo di Enea Coppola. Il presidente Salvatore Sestile è stato categorico sin dalle prime giornate di questa nuova esperienza. Non pettineremo di certo le bambole, il suo primo pensiero nel commentare le avversari probabili del girone. Ne va per la storia, un blasone da rispettare, un passato glorioso ed un presente luminosissimo. Al tecnico Amorosetti il tempo giusto per la coesione di un gruppo che promette bene. L'entusiasmo aiuta e facilita i meccanismi. L'ingaggio di un vero colpo da 90 per la categoria, il forte centrocampista Enea Coppola, classe 88 e un tesserato del Giuliano. Rapido l'arrivo al campo e l'intesa con la società. Oggi il primo impatto col gruppo è la voglia di dare il massimo per la causa. Subito larghi sorrisi e dichiarazione entusiasta del neotesserato giallo-blu. Avevo molte richieste come a Fragolese, Nola, Casoria, Battipagliese. Ho scelto Giuliano per la piazza affammata di Gran Calcio. A me queste piazze esaltano. Non vedo l'ora di scendere in campo, ci possiamo divertire. Sono uno che scende in campo per vincere. Il mio impegno sarà massimale. Coppola arriva come calciatore da un pedigree importantissimo. Esperenze in Serie D con Ercolanese, Angri, Nocerina, Turris, San Felice, Sant'Antonio Abate, Nola e Vico Equense. In carriera anche due campionati di C2 con Turris e Campobasso.